Gentili telespettatori di Canale Dueceri, eccoci qui anche oggi, parlo al plurale perché sono pronto qui con il mio ospite che devo subito richiamare come spesso sta succedendo perché anche lui è arrivato con un leggero ritardo, quindi non so se si è sistemato già per cominciare la trasmissione. Ve lo presento subito Bartolomeo Sbaldone che con piacere riospitiamo nei nostri studi. Per me è un piacere stare con voi e con tutti gli amici che ci seguono da casa. Poeta, scrittore, lo sapete, presidente del movimento culturale Spiragli. Innanzitutto io ti devo chiedere il perché di questo ritardo, come mai? Non è mai successo? No, in realtà sì, non è mai successo, mi rimproveri e fai bene perché un ospite dovrebbe sempre arrivare puntuale, sì, in teoria dovrebbe essere così. Il problema è che oggi è sempre più complicato muoversi ad Altamura perché intanto bisogna fare attenzione alle strade che si percorrono, alle buche che ci sono, bisogna far fronte al numero delle automobili che negli ultimi anni è cresciuto in maniera smisurata, bisogna legittimamente rispettare anche i limiti di velocità, anche quando questi sono abbastanza assurdi come 30, 40 e quindi la viabilità non sempre... Tu sei una delle vittime dei velo ok, di questo nuovo sistema di controllo della velocità. No, vittima no perché non mi è stata ancora notificata alcuna sanzione, contravvenzione, che dir si voglia, però sono degli oggetti che creano una certa soggezione, questo sì. Ecco, la domanda che mi porrei e porrei a tutti quanti, è necessario ricorrere a questi mezzi per inculcare il senso civico alla gente? Cioè bisogna in qualche maniera minacciare una contravvenzione per poter ricevere in cambio un comportamento consono a chi guida un'automobile oppure non sarebbe meglio educare la gente a monte per evitare poi che ci siano dei problemi? Così è una domanda che mi è venuta, suggeritami anche da quello che mi hai detto. E questo è un tema, l'altro tema forse è l'eccesso, il limite troppo basso di velocità, cioè 30 all'ora veramente, in diversi punti della città, perché questo risulta a noi, poi che dicano il contrario, ma in diversi punti della città c'è questo limite di 30 all'ora che ci sembra davvero eccessivo, perché le auto difficilmente riescono a dare, insomma, o si inquina di più portandole a 30 all'ora, cioè dobbiamo capire cosa vogliamo fare, vogliamo inquinare di più, dobbiamo decidere, vogliamo rallentare il traffico 30 all'ora nelle zone dove ci sono le scuole, ok, credo che sia doverosa, come nei pressi della stazione, dello Stato, della villa della stazione, siamo d'accordo, dove ci sono le scuole, ok, altrettanto, però ci sono altri punti dove è previsto questo limite di 30 all'ora e non si comprende perché. Vabbè, ma avremo tempo di parlarne di questo argomento, perché speriamo che le cose siano sistemate in maniera tale che, insomma, dopo questo esperimento che stanno facendo, speriamo che le cose vadano meglio, perché, insomma, Altamura ha bisogno anche di altro. A proposito, siamo dinanzi alle elezioni comunali, a proposito di cose di cui ha bisogno la città, allora la situazione come la vedi, cosa pensi del futuro sindaco, quali caratteristiche dovrebbe avere? Lasciamo perdere, voglio dire, i candidati che si sono presentati, ma quali caratteristiche dovrebbe avere? Innanzitutto, io penso, tra l'altro, scusami, credo che ne abbia ancora parlato nessuno di questi candidati al sindaco, di questi mezzi per il controllo della velocità, vogliamo sapere anche da loro come la pensano. Comunque, va bene. Guarda, Arturo, io cosa mi aspetterei da un sindaco di una città come Altamura? Io mi aspetterei, adesso al di là di qualsiasi retorica, mi aspetterei una figura illuminata, un principe, in senso proprio medievale, macchiavellico. Un principe illuminato che abbia una visione proiettata nel futuro della città, che abbia le idee chiare sulla programmazione, che abbia individuato un percorso da condividere con la sua squadra di governo e con la città intera. Un sindaco capace di segnare un passo diverso anche rispetto al passato, perché è innegabile che noi abbiamo ereditato una situazione dal punto di vista politico abbastanza disastrosa. E quindi è necessario, io dico che l'appuntamento di maggio è un appuntamento importante, cruciale, perché noi abbiamo bisogno di andare ad una velocità diversa. Cioè, Altamura io credo che meriti un futuro diverso. E quindi consegneremo nelle mani di chi sarà il sindaco della città queste legittime aspettative, auspicando che possano essere all'altezza di questo mandato. Perché se dovessi immaginarmi i prossimi cinque anni, così come gli ultimi cinque, io mi vedo di fronte ad un baratro. E non credo che Altamura meriti questo futuro in prospettiva. Non credo assolutamente che sia giusto. Quali sono i temi che secondo te dovrebbe affrontare per primi il futuro sindaco? Su quali settori? Beh, io guarda, ti dirò, adesso senza entrare nello specifico e quindi senza fare nomi, tra l'altro io non ho nessuna riserva su alcuno dei candidati, perché io ritengo che dal punto di vista morale siano persone rispettabilissime tutti i candidati. Ho sentito spesso ognuno di essi pronunciare la parola cultura, che è un argomento che a me, come ben sai, sta particolarmente a cuore. Ad esempio, parlare seriamente di cultura significa non farlo attraverso gli slogan, significa ad esempio decidere di mettere a bilancio una somma considerevole. Noi negli ultimi anni, da Giacinto Forte in poi, viaggiamo nel mio comparto ad una quota di 120-130 mila euro di soldi che vengono stanziati ogni anno a favore delle associazioni che chiaramente fanno attività documentandone poi i risultati. Attività culturale. Esatto. Rimane a sé la quota destinata invece alla rassegna estiva, che dovrebbe aggirarsi all'incirca attorno alla stessa cifra, poco più, 100-110 mila euro. Io penso che ad esempio una città come Altamura meriterebbe a bilancio una voce molto più consistente e quindi mi aspetterei una presa di posizione di questo tipo. Poi abbiamo, per ritornare un po' all'inizio di questa puntata, abbiamo da risolvere oggettivamente il problema della viabilità. Probabilmente abbiamo bisogno di educare le persone a comprendere l'importanza del camminare a piedi e quindi rinunciare, quando non è indispensabile, all'automobile perché le distanze della nostra città, partendo da qualsiasi angolazione, sono distanze assolutamente alla portata di una persona che abbia una media voglia di camminare. Quindi probabilmente la viabilità sarebbe un altro tema da affrontare. Le periferie vanno in qualche maniera prese in considerazione seriamente, perché tutto ciò che si è sviluppato al di là della cinta muraria del centro storico di Altamura negli ultimi anni ha dimostrato di essere abbandonato a se stesso. Sono quartieri dormitorio. E poi il verde, ad esempio, il verde rimane un problema irrisolto. Tutti dicono che vorrebbero una città a dimensione di bambino, ma i bambini non sappiamo neanche dove mandarli a giocare, ad esempio. Quindi questi, secondo me, sono i temi da affrontare. E poi uno sguardo al sociale senz'altro, perché oggi ci sono dei problemi di natura sociale, cioè ci sono problemi della povertà, è un problema al quale bisogna guardare con una certa attenzione. Se vogliamo essere, io lancerò ora un messaggio molto critico, se vogliamo essere precisi, questa città non è né a misura di bambino, né a misura di uomo, né a misura di donna, né a misura di disabile, vorremmo capire a misura di cosa è questa città, perché non riusciamo più a comprenderlo. Considerato che tra l'altro queste distanze ravvicinate sono l'effetto di una costruzione, un modo di costruire selvaggio che ha avvicinato tutti i palazzi. Quindi voglio dire, c'è un'alta concentrazione di costruzioni per cui è facile muoversi tra i palazzi, però. Sì, ma è facile anche io, per esempio, che vivo nel quartiere di 30 Capilli, per intenderci, posso raggiungere in dieci minuti il centro Piazza Duomo. Me ne servono pochi più di minuti per arrivare in stazione. Quindi, ecco, investire in cultura significa anche partire proprio dalle scuole, dall'asilo probabilmente, per educare i bambini ad avere un senso civico diverso, una volta che saranno diventati grandi. Se si lavora bene a partire dall'infanzia, probabilmente i velo ok non servono, perché cresceremo persone che saranno già responsabili, che avranno un senso civico che li porterà a comportarsi in maniera adeguata. Bisogna avere questo tipo di coraggio, ecco, abbandonare gli slogan e ragionare sui programmi, sui progetti. Siccome credo che manchi questo senso, tu sei uno che crede nelle intelligenze di questa città, cioè, secondo te, ce la possiamo fare da soli, anche per esempio sotto l'aspetto del turismo, o abbiamo bisogno che qualcuno ci aiuti dall'esterno? No, io sono assolutamente convinto che noi abbiamo le risorse intellettuali per poter assumere degnamente questa sfida. Non abbiamo bisogno di ricorrere a consulenze esterne. Tra l'altro questo è uno dei temi dei quali abbiamo parlato l'ultima volta che sono stato qui, quando c'era una questione abbastanza accesa rispetto a delle consulenze esterne. No, io sono convinto che noi abbiamo l'intelligenza che ci può consentire di disegnare questo passo diverso del quale parlavo prima. Io credo molto nelle risorse che abbiamo noi ad Altamura. Ci credo moltissimo. Andrai a votare, suppongo, no? Beh, sì. Andrò senza altro. Grazie a tutti a farlo, invitiamo anzi, lo diciamo in anticipo, così facciamo anche un'opera buona. Mi raccomando, amici telespettatori, noi confidiamo in voi, non lasciatevi comprare, non permettete che qualcuno acquisti il vostro voto a qualsiasi cifra. Non lo permettete perché questo poi è una cosa che non ci permetterà di poterci esprimere, di poter richiedere. È la morte della libertà, insomma. Sì, è una pratica ignobile quella del voto che viene venduto. Che spesso accade, quindi speriamo che ciò non si verifichi, non stiamo colpevolizzando nessuno, non abbiamo notizie certe, però sappiamo che solitamente ha le elezioni in generale, non queste della nostra città, ma in generale questa è una pratica che in qualche modo accade, con buoni benzina, ci sono tanti sistemi, tanti stratagemmi. Per cui mi raccomando, perché se volete bene alla vostra città dobbiamo fare in modo che Altamura possa crescere e possa crescere anche lo spirito, il senso critico, insomma, verso chi ci amministra. E Canali 2 è qui, consentitemi, anche per questo, per criticare. Noi invitiamo spesso gli ospiti a parlare delle cose che non vanno, non perché ci piace sparlare, no, tra virgolette, ma perché vogliamo che questa città possa crescere, potremo farlo solo insieme, tutti insieme. Ora veniamo un po' alla politica nazionale. Io quando ho sentito questa notizia, ho pensato subito a te. C'è una proposta di legge di Fratelli d'Italia che vuole vietare l'utilizzo dei vocaboli che non siano in lingua italiana. Ma la cosa che, diciamo, ci spaventa è che chi dovesse utilizzarli è passibile di una multa che potrebbe andare, se questa cosa venisse approvata, da 7 mila a 100 mila euro. Che ne pensi di questa proposta? Guarda, io ti dico che ho letto qualche giorno fa, adesso non mi ricordo dove, questa notizia, e ho immediatamente pensato che fosse una bufala. Poi in realtà ho approfondito, in realtà pare che sia veramente una proposta di legge. Intanto mi viene da dire che la redazione di Lercio è sempre più in difficoltà, perché quello che accade realmente nella vita è molto più surreale di quello che riesce invece ad immaginare Lercio. Poi la trovo una proposta di legge assolutamente inutile, oltre che stupida, restituita di qualsiasi irragionevolezza è fondamento. E posso fare un esempio che può chiarire meglio quello che sto tentando di dire. C'è una parola inglese, scusami, che è manager, che tutti pensano che sia una parola inglese. In realtà è una di quelle parole che sono state mutuate dalla lingua italiana e che sono ritornate indietro poi in una forma diversa, in un anglicismo per intenderci. Perché manager è una parola che è stata adottata nel vocabolario inglese a fine ottocento, credo nel 1850, dalla parola italiana maneggiare. Maneggiare, maneggio, manager, e poi c'è ritornata indietro come anglicismo. Quindi, qualora dovesse passare questa proposta di legge, se dovessi dire io manager mi potrebbero multare e non avrebbero nessuna ragione di farlo, perché in realtà è una parola di origine italiana. Ecco, la lingua italiana, la lingua in generale, è una materia che è costantemente in movimento e quindi è suscettibile di continue variazioni, mutazioni. Già Pascoli, tra fine ottocento e i primi del novecento, utilizzava spesso nelle sue poesie delle espressioni in lingua inglese e non solo. Quindi, trovo che sia davvero l'ultimissimo dei problemi che ha al momento questa nazione e mi fa specie che politici che occupano gli scrani più alti del Parlamento riescono a trovare questo modo stupido di perdere il loro tempo che invece probabilmente andrebbe impiegato diversamente. In un'Italia dove ci sono tante esigenze, insomma, c'è bisogno di tanto altro e questi stanno a pensare di cui parlare. Ma la cosa che ci fa paura è che questo è in totale contrasto con la libertà di espressione di pensiero. La trovo stupida. È veramente una cosa incredibile. Ma è possibile che hanno pensato, hanno solo pensato una cosa di questo tipo? La trovo stupida, Arturo, almeno quanto accadde tempo fa in Francia allorché nel torneo di tennis Roland Garros venne vietato agli arbitri di dare i punteggi come si usava a convenzionalmente fare in inglese e quindi Deus che era il pari diventò egalité per intenderci. Questo voler difendere a tutti i costi il nazionalismo anche attraverso la lingua che ci impoverisce anche perché è bello che la lingua si arricchisca, si evolva, in qualche maniera si trasforma, che ci sia un'apertura anche verso altri orizzonti linguistici e quindi tutto ciò che costringe i limiti alla libertà io trovo che sia stupido. Poi facciamo entrare gli stranieri in Italia, questo è un controsenso, li facciamo entrare e poi che facciamo? Non ci mettiamo a parlare con loro e le altre vincere. Esattamente, che razza di idea. Bisognerebbe imparare a considerare quelle che ci appaiono come delle minacce, come delle opportunità invece. Noi altamurani più degli altri perché Altamura è stata sempre una città cosmopolita, dal Medioevo in poi. Quindi poter imparare anche un termine di vera, anche solo un termine in una lingua magari potrebbe essere più complicato, anche solo la bellezza di un suono, di una parola in un'altra lingua io credo che sia un'opportunità. La comprensione dell'altro. La comprensione dell'altro, sì. E invece in Italia questo potrebbe essere bandito, sarebbe un grave attentato, tra l'altro l'altra cosa grave è che addirittura ci mettono la multa. Sì. Da 7 mila a 100 mila euro. Ma caso mai dovesse passare questa proposta di legge io credo che sono convinto che non passerà. Poi che cosa potrebbe accadere? Che multeranno quelli che non la parlano bene la lingua italiana quindi appena uno sbaglierà commetterà un errore di grammatica, di sintassio verrà multato perché sbaglia un accento sono dei paradossi che non capisco ecco tutto qui. Poi per certi reati magari uno con nemmeno 5 mila euro chiude tutta la vicenda invece se uno dovesse utilizzare una parola magari la diffamazione non è stata depenalizzata la diffamazione è come se non contasse più nulla però usare un termine straniero potrebbe rappresentare un pericolo per la nazione per i coi tra l'altro io ho ricordato poco fa ricordavo questa cosa pensate amici telespettatori ma sempre il centro-destra che combina queste cose incredibili inverosimili anni fa vollero presentare una proposta di legge legge fini che ci fosse un altro firmatario per indicare alle radio che una volta erano libere si diceva le radio libere italiane alle radio locali volevano vietare di trasmettere musica straniera cioè le radio locali avrebbero secondo loro secondo il loro pensiero per rispettare la nazione eccetera avrebbero dovuto da quel momento in poi trasmettere solo musica italiana cioè si sarebbero dovute uniformare tutte e tutte trasmettere la stessa cosa come se la musica avesse dei confini poi è una cosa assurda quindi è veramente voler limitare la libertà ecco io non non riesco a immaginare cioè questi non capiscono che stanno limitando la libertà con queste notizie che danno altro che la Russia e Putin loro limitano la libertà delle persone non è una cosa certamente positiva quindi tu la bocci assolutamente ma totalmente io credo questi sono dei mezzi di distrazione di massa cioè sono degli strumenti che vengono impiegati per distogliere l'attenzione della gente dalle problematiche serie che ci interessano in questo in questo momento quindi la trovo stupida ecco non mi viene un aggettivo oltre che inutile la trovo fondamentalmente stupida rispetto a questo argomento l'abbiamo appena ci siamo passati sopra rispetto agli stranieri che stanno arrivando sulle nostre coste tu come la pensi? Cosa credi che si possa fare? Come dovrebbe comportarsi? Io sono per l'accoglienza sempre io ritengo che le responsabilità vadano ricercate nei luoghi di partenza io credo che la politica occidentale da metà ottocento in poi dal colonialismo da quando ci fu la spartizione anzi proprio vennero segnati a tavolino i confini dell'Africa dei vari stati da quel momento si sono creati degli scompensi che poi hanno a catena prodotto tutti i risultati che drammaticamente vediamo quotidianamente vediamo in televisione apprendiamo dai media in generale sono in maniera incondizionata per per l'accoglienza credo che non bisognerebbe mai lasciare morire le persone per nessuna questione ragione ideologica in virtù di nessuna legge di nessun ordinamento quindi credo che andrebbe ripensata proprio la politica internazionale che sia giunto finalmente il tempo di smetterla di sfruttare i paesi che sono stati sfruttati secolarmente affamati secolarmente credo che il pianeta terra abbia a disposizione risorse per consentire a ciascun abitante della terra di poter condurre un'esistenza dignitosa se queste risorse sono state sottratte pro capite evidentemente le responsabilità vanno ricercate a chi ha impoverito il pianeta terra arricchendo solo se stesso tutto qui quindi perché prendersela con la gente che è stata costretta a lasciare la propria terra chi ragionevolmente lascerebbe mai la propria terra per andare incontro ad un futuro incerto il senso di umanità io non vorrei sprecarlo ecco in nome di una legge di una ragione di stato penso che bisognerebbe aprire sempre i porti Arturo e soccorrere sempre quindi tu diciamo sei tra quelli che sostengono che l'Italia abbia qualche responsabilità per ciò che è accaduto a Cutro cioè la morte di persone io non ho elementi per poter esprimermi in questo senso davvero sarebbe pretenzioso da parte mia perché non conosco come sono andati i fatti non ho gli elementi concreti per poter esprimere ritengo che se ci sono le condizioni ecco per poter soccorrere le persone che rischiano di morire in mare queste persone vadano in qualche maniera aiutate bisogna ad operarsi io credo che la questione umana debba prevalere su qualsiasi altra questione e credo che va ripensata proprio la politica internazionale questo sì va proprio ripensata allora in conclusione visto che siamo arrivati al termine vogliamo lanciare un messaggio al futuro sindaco di Altamura perché prima o poi l'avremo un sindaco lo sapremo magari si andrà pure a balottaggio ma prima o poi avremo un nuovo sindaco per questa città e vogliamo chiedergli qualcosa di specifico sì io io spero auspico che il futuro sindaco di Altamura sia un sindaco libero da qualsiasi logica di di partito da qualsiasi forma di condizionamento cioè che possa arrivare a governare la città in nome di un mandato pieno e incondizionato senza ricatti ecco che non sia in qualche maniera ricattabile che non debba ricorrere al manuale Cencelli che non debba soccombere come è successo per esempio a Rosa Melodia perché non riesce a tenere in piedi gli equilibri perché deve accontentare uno piuttosto che un altro vorrei che fosse un sindaco libero che agisse in nome di un mandato pieno e incondizionato non ricattabile che riuscisse a governare serenamente e seriamente per cinque anni che avesse il coraggio di ridisegnarla questa città un sindaco non libero non potrebbe mai intanto governare per cinque anni perché andrebbe sempre incontro a delle crisi di governo a rimpasti già il rimpasto per esempio io trovo che non sia un buon segnale e quindi spero di avere una squadra di governo forte guidata da un sindaco principe illuminato capace di poter ridisegnare completamente questa città perché se no significerebbe davvero andare contro un periodo ancora più buio degli ultimi degli ultimi città vuole coraggio io immagino vorrei avere un primo plotino il primo plotino un sindaco forte libero con un certo spesso così non scontentiamo nessuno ma tra l'altro io non appartengo neanche politicamente no politicamente no ideologicamente non appartengo proprio a plotino anzi forse appartengo di più alla parte anarchica diciamo così della sinistra sì o l'uno o l'altro comunque personaggi di un certo spessore di una certa levatura morale intellettuale e mi pare che i candidati rispondano a questo requisito ma soprattutto liberi ecco che non arrivino a diventare sindaco della città perché devono accontentare chi ha garantito mille duemila tremila voti queste logiche non le capirei noi abbiamo abbiamo diritto ad avere qualcosa di diverso Altamura merita un sindaco che sia all'altezza della nostra storia tutto qui sono d'accordo allora grazie a Bartolomeo Smaldone per essere stato qui con noi scrittore poeta e tra l'altro presidente del movimento culturale Spiragli che spesso abbiamo ospitato qui nei nostri studi ritornerai da noi molto volentieri molto volentieri noi di questo ti ringraziamo perché abbiamo bisogno di parlare di temi che riguardano la nostra città sempre nella convinzione scusateci se siamo presuntuosi nella convinzione di poter leggermente cambiare le cose e ora dopo aver detto grazie a Bartolomeo io lascio la linea a quel mattacchione di Wisham Blon e Maccheron cioè di Emanuele Giordano mi raccomando facci vedere con ironia ecco le cose che non funzionano in questa città grazie a tutti a domani grazie a tutti